...qui con noi e di ascoltare dalla loro viva voce e nei loro dialetti alcuni testi tratti dalle loro raccolte. Purtroppo è assente e giustificato il poeta Giovanni Nadiani, già vincitore del 2004, del primo ischitella Pietro Giannone, il quale ci ha inviato un amico, perché non può essere presente. Un grande sentito ringraziamento va agli sponsor e ai sostenitori del primo ischitella Pietro Giannone, Arte Dolce di Michele Reggiani, Il Bar Centrale, Bed and Breakfast sul Corso di Raffaella Falco, Bed and Breakfast Sun and Smile di Tozzi Nicola, Vai Cosimillo di Russo Anna Maria e Russo Nazario, Il Coro del Santissimo Crocifisso di Varano, La Farmacia del Dottor Germano Lustri, Mente Locale Pub, Ristorante e Pizzeria sulle Scale, L'Operetta Osteria di Mare Rodi Garganico, Carmela Agricola, Giuseppe Derrico e Anna Maria Agricola. L'Operetta Castelluccia è la parafarmacia Uria di Ischitella. Vogliamo ricordare che ieri sera si è tenuto nella darsena di Focevarano un reading dei poeti vincitori del primo ischitella, che è stato alietato dai balli della scuola Densap di Maria Comparelli. Inoltre ieri sera il professor Marcello Teodonio dell'Università di Roma Tor Vergata, membro della giuria del nostro premio, presidente del centro studi Giuseppe Gioacchino Belli, ci ha intrattenuto sul tema Trilussa e la Grande Guerra, di cui quest'anno ricorre l'anniversario. Inoltre abbiamo l'onore di avere con noi il giornalista Davide Dionisi, che ha voluto onorarci della sua presenza e che condurrà con me la serata. In basso il microfono.